Oggi alla celebrazione dell'assunta in cielo, lei ha fatto una omelia che per me è stata veramente eccezionale e che non avevo mai sentito con lo stesso vigore, con lo stesso affetto che lei ha trasmesso a chi stava presente. Ora la mia domanda è questa, lei si è sentito diverso da quando fa la sua omelia in cattedrale rispetto a quella che ha fatto oggi quando si è trovato fra il popolo, così come facevano gli apostoli? Diciamo che io tutti i giorni sono tra il popolo a celebrare, in cattedrale celebro solo nelle grandi solennità, nei grandi momenti insomma e quindi certo lì è un po' più ufficiale, un po' più distante, anche se vogliamo fisicamente, c'è una distanza tra il popolo e il celebrante. Nelle comunità invece il contatto è più diretto e in qualche modo si fosse un pochino più semplice, però non dipende dal luogo, magari forse più dalle circostanze, dalle situazioni. A me è parso di vedere un, mi scusi come lo dico, un nostro vescovo come il prete che ha cominciato a seguire la parola di Dio. La sua fede è rimasta intatta. Speriamo che cresca ogni giorno e diventi sempre qualcosa che muove di più la nostra vita. Grazie. Grazie. Grazie.